Percorsi Mindfulness è un webinar diverso rispetto a quelli a cui sei sicuramente abituato perché è un webinar altamente esperenziale Pur utilizzando un canale virtuale come quello del webinar faremo durante tutte le otto ore che trascorremo insieme esercitazioni pratiche Questo perché l'unico modo per apprendere realmente la mindfulness è quello di esercitarla, di metterla in pratica e quindi di sperimentarla Per questo motivo ti suggerisco caldamente di seguire il webinar da un luogo tranquillo dove non hai troppi estrattori Perché un webinar sulla mindfulness? Perché oramai sono anni che le ricerche scientifiche ci mostrano come la mindfulness abbia dei risultati molto positivi sia per quanto riguarda la gestione dello stress personale del docente sia per quanto riguarda l'impatto che ha sulla classe inteso come coesione del gruppo classe, insegnante compreso Terzo, perché oramai dimostrato come l'utilizzo di percorsi di mindfulness a scuola incrementi notevolmente i livelli di apprendimento all'interno della classe nonché la diminuzione dei comportamenti problematici Non importa che tu abbia un'ora in classe a settimana o molti di più puoi applicare la mindfulness a prescindere da quante ore tu trascorri all'interno della classe quindi questo non è un limite Il webinar è aperto a docenti di tutti gli ordini, di tutti i gradi in quanto la mindfulness ha dei risultati che sono trasversali e che non vanno ad intaccare, ripeto non sono intaccati, dall'età dei partecipanti Ti aspetto al webinar percorsi di mindfulness a scuola